amici di toyota yaris hybrid 2020 gruppo facebook eccoci qui con un'alternativa per quanto riguarda l'illuminazione dell'abitacolo sapete tutti che non ci sono presenti delle luci di cortesia nel vano posteriore e praticamente adesso vi valuto questa alternativa che io avevo già ordinato sul gruppo ce n'è già un'altra di alternativa c'è una lampada praticamente lunga e stretta sempre con la luce bianca e luce blu come come in questo caso questa qui è molto più compatta e poi valutate voi insomma valuterò anch'io se è il caso di utilizzare questa oppure l'altra in questo caso abbiamo questa quindi valutiamo innanzitutto come si può mettere all'interno all'interno dell'abitacolo quindi nella confezione è presente un mini cavo usb perché questa alla ricarica usb alla luce bianca o la luce blu tenete al blu che poi vedremo è una placca una placca qui è metallica praticamente va calamitata si calamita praticamente dietro al retro e poi c'è un kit per la pulizia e il nastro 3m ecco come vedete questo è il retro per poi applicarla quindi adesso andiamo all'interno dell'abitacolo e vediamo dove potrebbe essere posizionata e valutiamo più che altro l'intensità della luce io adesso valuto quella poi deciderò come e dove applicarla adesso siamo con la luce naturale completamente al buio quindi adesso io la sfioro basta sfiorarla e come vedete ecco adesso in questo caso abbiamo la luce bianca che riflette ovviamente vedete che comunque ha una intensità non sto usando nessun'altra illuminazione quindi vedete un intensità abbastanza buona per un abitacolo la sfioriamo nuovamente si spegne e adesso abbiamo la luce praticamente tendenzialmente tendente al al blu ecco l'abitacolo adesso è illuminato di blu quindi poniamo il caso di metterla qui dove c'è questo inserto in pratica vedete che riesce comunque a illuminare tutta la parte dove non è presente comunque la luce di cortesia tenete presente che siamo completamente al buio quindi è un'occasione ottimale per provarla e per testarla io per il momento non la posso applicare e quindi la valutiamo così un altro punto dove potrebbe essere messa adesso io ho un attimo la portiera così almeno riesco a inquadrare un po meglio l'abitacolo la potremmo anche mettere qui ecco vedete però in questo caso sarebbe un po più penalizzante la luce perché comunque abbiamo il sedile il sedile che potrebbe coprire la visuale comunque ricapitolando il funzionamento sono tutti i led che si vedono sono due quattro sei otto dieci led e basta sfiorare come vi dicevo il tasto in questo caso vedete si è spenta lo rifioro e questa è la luce bianca quindi penso di avere fatto una valutazione abbastanza completa ecco anche mettendola praticamente io adesso qui ho il tetto panoramico però mettendola qui come vedete per chi non avesse il tetto panoramico potrebbe anche posizionare in questo modo o comunque più avanti più indietro come vedete l'illuminazione è buona la proviamo ancora nella illuminazione azzurina che è molto più soft eccola e questo abbiamo risolto in pratica il problema con l'illuminazione posteriore quindi io penso di tenere buona questa se volete poi il link ve lo metterò comunque la trovate su amazon tranquillamente si sfiora e si spegne vedete basta solo un piccolo touch senza non ci sono clic non ci sono niente abbastanza intuitiva digitale vedete basta sfiorarla sfiorarla subito in automatico risponde adesso non so quanto quanta autonomia ha per quanto riguarda l'illuminazione però con un cavo usb abbastanza lungo non ci sono problemi ci sono anche quelli di tre metri per quella volta che la dovete caricare senza sposizionarla la potete caricare tranquillamente senza alcun problema bene vi ringrazio della visione aspetto come al solito i vostri commenti vi aspetto per chi dovesse vedere questo video su youtube vi aspetto sulla nostra pagina facebook toyota yaris hybrid 2020 ciao a tutti da claudio